Perché un corso sulla didattica cooperativa alla scuola dell'infanzia? Perché i nostri piccoli esploratori e i loro insegnanti hanno bisogno di strategie specifiche. Che cosa andremo a vedere? Beh, innanzitutto useremo lo strumento del gioco. Vedremo dei giochi cooperativi per coltivare nei nostri piccoli esploratori la capacità di fidarsi l'uno dell'altro, la capacità di essere responsabili, ma anche la capacità di fare insieme, di aiutarsi, di condividere piccole soluzioni e piccole sfide cooperative. La seconda, invece, dimensione sarà quella legata degli strumenti per l'educazione alla gentilezza. Sapete che io tengo molto a un'idea di cooperazione, non solo come fare insieme. Questa è una cooperazione strumentale, è una cooperazione opportunistica. Io penso che la verità della cooperazione non sia nel fare insieme, ma sia nel prendersi cura gli uni degli altri. Allora vedremo come unire alle attività cooperative sull'apprendimento un percorso di educazione alla gentilezza. E poi, ovviamente, la terza dimensione del corso riguarderà i format cooperativi. Format cooperativi specifici per la scuola dell'infanzia per imparare insieme. In particolare vedremo dei format in grado di coltivare negli apprendimenti della scuola dell'infanzia il pensiero logico, il pensiero sintetico, il pensiero argomentativo, coltivando ovviamente la fantasia dei bambini, ma anche le capacità comunicative. Allora, dicevo un vecchio detto, perché imparare insieme? Perché ciò che i nostri bambini oggi sanno fare insieme, un giorno, domani, sapranno farlo da soli.